Musica Ho tra le mani uno dei primi sample di Surface Pro il tablet di Microsoft annunciato nel corso dei mesi di febbraio che questa settimana entrerà in commercio nel mercato italiano classica tastiera, questa è una cover type, quindi la tastiera più sottile e compatibilità con gli stessi accessori che sono stati presentati da Microsoft per l'abbinamento con Surface quindi il primo tablet basato sul sistema operativo Windows RT Quali sono le caratteristiche e tecniche principali? Questa è una soluzione tablet basata su architettura Intel Core quindi esattamente lo stesso tipo di architettura che troviamo in un tradizionale PC tipicamente in un Ultrabook Display da 10 pollici di diagonale, esattamente come la prima versione di Surface in questo caso con un pannello da 1920x1080 pixel di risoluzione quindi un pannello Full HD interfaccia touch e questa è la novità di Surface Pro il pennino pennino che può essere utilizzato per varie tipologie di funzionalità e che a nostro avviso per la prima prova di uso che abbiamo fatto in questa presentazione è una soluzione particolarmente interessante che permette a Surface di differenziarsi in modo netto rispetto alle altre soluzioni tablet presenti in commercio la soluzione di storage è una soluzione di uno stato solito quindi un SSD da 128 GB in questo caso è presente anche una versione da 64 GB e per il resto una costruzione meccanica che è molto simile a quella di Surface uno spessore complessivamente superiore dovuta alla complessità più elevata dell'hardware a disposizione e della necessità di bilanciare il sistema di raffreddamento la costruzione meccanica riprende le linee guida di Surface abbiamo quindi sempre il kickstand grazie al quale poter appoggiare Surface su una superficie piana e una finitura decisamente di buon livello che noi apprezziamo ripeto, nessuna particolare nota da fare sulla costruzione meccanica rispetto a quello che abbiamo già visto e già evidenziato come positivo in Surface basato sul sistema operativo Windows RT commercializzazione dalla fine di questa settimana anche nel mercato italiano oltre che in varie altre nazioni in attesa di quello che potrà succedere alla fine del mese di giugno in occasione della conferenza Build Microsoft presenterà le novità legate a Windows 8.1 ma crediamo darà alcune anticipazioni su quella che sarà la linea di prodotti Surface attesa a partire dalla fine dell'anno italiano Grazie a tutti.